WAHEKUJ, benvenuti da vostro, androno in 91 e benvenuti in questo primo episodio di Kirby e la nuova stoffa dell'eroe E il primo episodio però lo chiamerò episodio 0, dato che era demo, e anche se non c'è scritto episodio 0 nel titolo, ma solo demo, avete capito no? Iniziamo allora, vediamo un po', giardini sorgivi, è la prima volta che gioca Kirby e la stoffa dell'eroe, beh questa è nuova stoffa dell'eroe perché la versione per 3DS è come così è rivista E andiamo col primo livello, giardini sorgivi, modalità addirittura demoniaca, eeeh, proviamo con demoniaca, vediamo quanto sarà difficile Kirby è conosciuto per essere un gioco molto semplice, quindi Mio dio, ma, co, oh Cos'è, geni sono gli nemici? Ah ok, quindi Ma, non posso colpirlo lui Cioè, questo, ah ok, questo lo prendo e quindi Tipo B praticamente funziona da A spinapol, ah, da lui che assorbe I nemici praticamente Oh mio dio, non ci sto capendo nulla Ah, quindi qui siamo dietro? Fammi ben capire Ecco, ora vado sopra E esco da qui Ok, eeeh, sì, è classico Kirby Però devo un attimo prenderci bene La familiarità con i comandi Perché non ho mai giocato a questo gioco Quindi Non so di preciso come possa Oh, eeeh, vai, fuori dalle scatole Uh, attenzione Posso lanciare le bombe ora? Ok, apriamo questo Divano floreale Questo divano è molto comodo Il profumo di fiori è appena colti Grazie Credo E sopra mi sembra che abbiamo anche Ah, però posso andare qui Attenzione Eccolo, perfetto C'è qualche segreto qui dietro No, perfetto Andiamo avanti allora Sopra credo che sia anche il contatore Di dove, di dove sono In quale punto del livello sono Ah, ecco E ora ritorna quello Com'è, come si fa? Ok, in su e B Ok, fammi un battio Eccolo qua Interessante la meccanica Praticamente La modalità demoniaca Sarebbe lui che ti rompe le scatole In ogni dove Ok, quindi così posso diventare In mattone Praticamente Ah, posso anche rompere Ovviamente Il tessuto Ovviamente Certo Peccato però che non posso fluttuare Sono abituato Sono abituato agli altri Kirby Che praticamente lì flutto sempre E quindi Un po' mi Da fastidio Il non poter fluttuare Devo un attimo Salire qui sopra però Eccolo Opla Ehi Eccomi Aiuto Oh Mi ha girato Quanta robina qui sopra Oh Interessante Bellissima Sta meccanica Che posso aggrapparmi Praticamente A tutto Vieni qui Vieni qui Andaggia se lo prendo Vabbè Non è che posso Stare a tutto quanto il livello Cercando di prendere quel coso Andiamo avanti Perfetto Oh Attenzione Questo qui voglio aprirlo però Eeeh È dura È dura È dura Opla Opla Ok Quindi posso andare qui sotto Ora Fontana Perfetta per qualsiasi stanza Soprattutto quelle grandi Molto grandi Uh E qui si entro Ovviamente Uh Forte Ma è automatico Ok Nooo Tutto quanto Ho perso Ma dai Ma c'è la lancia Ma può essere Secondo voi Eh certamente Se pure metto modalità demoniaca Ovviamente Quello pure mi punzecchia Appena può Ehi 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 Vabbè andiamo più veloci Dai Entriamo qui Così non mi scoccia per un po' Dove è che si sale Dove è che si sale qui Vediamo un po' Usciamo da Qui Opla Scappo Non mi prendi Dove è una macchinetta Praticamente Ok Questo Apriamo Uh No Da paura Oh Assurdo Ah No Non posso perdere Ho praticamente Dei missili infiniti Vai Sparo di continuo Praticamente È la prima volta Che gioco A un gioco Con le armi Mi ricordo La prima volta Che giocavo Agli FPS Appena avevo un'arma Quando iniziamo a sparare All'impazzata Anche se non c'era Nessun nemico Ah Che fine hanno fatto Quei giorni Sono morto Kirby È conosciuto Per essere Un gioco Molto semplice Quindi Ok Mi sembra che sono arrivato Ora Eccolo Che praticamente Non ho più vita Però abbiamo finito Meno male Meno male Opla Hi Ah che bello Sì vabbè Praticamente La seconda volta L'ho lasciato Non ho preso Non ho preso Neanche un tesoro Però comunque sia È la demo Quindi Facciamo anche L'altro livello Cascate Arcobaleno Moderna Normale Stavolta Perché se no Davvero Perdo tempo A combattere Contro il nemico Quindi Ok Stavolta Cerchiamo di Prendere tutto Ok Si può Morire male Evitiamo di farlo Oh Vai Kirby Eletro Giusto a tutto Kirby Bob Giusto a tutto Ok Praticamente Praticamente Non è che si perde Il livello Però Però Se caschi Perdi un po' Di Eccolo Perdi un po' Di Di cristalli Avere un arcobaleno In casa Non è affatto Cosa da tutti Eh Da Kirby Solo da Kirby Non so Cosa ho preso Ma l'ho preso Opa Ha ha Fregato Poccodrillo Qualunque cosa Tu sia Perfetto Sto andando Un po' Troppo veloce Credo Non è un grande Problema Tanto finché Finché La demo Anche non prendo Tutto L'ho detto Non fa nulla Per la demo Ok Questo non si può Distruggere A quanto pare No Quello genera nemici In maniera Automatica E questo qui È mio amico Credo Attenzione Opa Oh Oh No quello Lo voglio Lo voglio Il cristallo Ok Aiuto 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 Non posso perdere Tutto questo Con la lancia Ma perché Prenditi una Nissan Che è molto meglio Come macchina No la lancia Maledetto Aspetta Ok Ora cosa Siamo Da paura Ragazzi Ma neanche lo sto Manovrando Vada solo Va Ha ha I trick Ok Andiamo Però dai Possiamo andare Tranquillo Perfetto E' come Mario Quando c'ha Il propeller Il cappello Che fa Che lo fa volare Uguale Premi all'invito Che sta il tasto Per girare E' fantastico Molto carino Come gioco dirmi Ah non l'ho girato No non l'ho saltato Sopra Ok Eccolo Ah Preso la grande Opra Ah Mancato Yuppie Se ogni livello Ha una specie Di potere Tutto suo Io dico Ok 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 vai Ah Pensavo Su quello Rosso Ah Punzano tesoro Ho trovato Ma ho detto Non fa nulla Perfetto Voglio un attimo Vedere una cosa Provando a Rifare un livello Ecco Ah Quindi con la X Posso levare Il potere Va bene Comunque sia Quando uscire Quando uscire Il gioco Completo Lo porterò Sul canale Perché Skirby E' una serie Che comunque sia Mi piace E a breve Vedrete anche Che la serie Star Allies Che a suo tempo Quando usci Non portai Perché mi dava Problemi Di copyright E mi bloccava Il video A livello mondiale Quindi Non ho potuto Assolutamente portarla Allora in ogni modo Questo video termina qui Io come sempre Vi ringrazio per averlo seguito Vi ricordo di dare un'occhiata In descrizione Per la pagina Instagram Se ancora non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi Ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye Bye Bye